Sì, i volontari dell'Associazione Tau ci danno una mano per risistemare sempre l'oratorio che ha sempre bisogno di una mano per risistemarsi, ma i piccoli ci aiutano di più, dei grandi. Ecco, i nostri lupetti stanno su, abbiamo iniziato ieri le vacanze di Branco, io faccio su e giù, ma loro stanno su, noi stiamo giù oggi pomeriggio, riprendiamo i laboratori con Sport Oratorio, approfittiamone oggi, domani e dopodomani. C'è anche questi lavori con l'uncinetto che stanno veramente appassionando gli altri, poi ormai abbiamo il campo di bocce, siamo pronti a tutto. Qui, Don Bosco Formia, per te. Chississimo, abbiamo iniziato le vacanze di Branco con nove anni di Greta, wow! Tanti auguri a te, tanti auguri a te. Allora, qua comunque stanno qui vicino, sono i due cavalli di Pierino. Puoi ripetere, Gabriele? E se noti ogni particolare, dietro c'è una storia nuova da imparare. Le mie amiche, ma io non posso adesso accudire questo bambino, perché ho la casa da accudire, ma io, ciascuno ha le proprie priorità. E invece, forse, da questa rispettatura... Eccoli là, i nostri ragazzi. Vincenzo. Stanno giocando di là tutti i bambini, sono più di noi bambini. Stanno giocando di là tutti i 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 bambini. Stanno giocando di all' главное, allora così choose. E quindi le fanno realizee qui la pagi e la via lui d'arte. Stanno giocando ancora loro box e la bambini. Anche io v craftero abbiamoândliches messesso queste pesate. Non zero Director. ho vinto io va bene il campo